Togli questo video, toglilo subito, tanto comunque non lo vedrai, perché così funziona su YouTube. Soprattutto se non sei mio iscritto, togli perché magari tu puoi pensare, ma crema, chi se fai video sul cesso? In realtà questo è il secondo video in meno di un mese che lo faccio sul cesso, perché Napoli è molto poetica. Io trovo il bagno nettamente il posto più poetico che ci possa essere, in un appartamento. Il bagno è intimo, il bagno è conviviale. Io spenderei ore in bagno e lo faccio, non solo per fare la caca, perché Lukaku e la caca, non so se conoscete il meme, se avete più di 30 anni, no. Ma vi rendete conto che fare un parto, oppure fare una cacata da stitico, che è più o meno la stessa cosa fondamentalmente, un parto per avere Lukaku al 25 di agosto? E abbiamo subito un'inculata che equivale, secondo me, a una fuoriuscita di uno stronzo, ma veramente stitico. Perché questa società e questa squadra poi un giorno ce lo spiegheranno, un giorno qualcuno ci dirà la verità su questo Napoli, su De Laurentiis. Ma anche un coglione come me, che non sa fare i conti, che non ha studiato per dirigere un'azienda, riesce a capire che Lukaku, o la caca, dipende, per 30 milioni più 15 di bonus. E' probabilmente una cagata. Nulla a togliere al giocatore di cui conosciamo tutti la caratura, ma conosciamo anche l'anagrafe. E noi, disgraziati tifosi del Napoli, conosciamo anche il trascorso dei attaccanti presi dal Napoli. E tranne Iguain, tranne Iguain, nessun attaccante dei titolari, chiaramente, superava una certa età, perché Napoli non è quella squadra che può rischiare di pagare in toto 45 milioni, più l'ingaggio che sarà più che oneroso. E' un giocatore che fa un contratto di tre anni, vuol dire che a 34 anni starà ancora qui a Napoli a percepire ciò che percepirà. E' una follia, è una follia. Ma è una follia essere arrivati fino a questo punto! Perché io voglio capire che tu devi dare a Conte ciò che vuole Conte. In primis perché Conte gli alibi non li devi avere. E in primis questa è la cosa più importante perché conosciamo tutti i Conti e lo stiamo conoscendo meglio nelle conferenze stampa. Ma soprattutto, e io qua lo ripeto, ci farò un video, un film, forse io ho questa vocazione di essere colui che scrive film e si compone le musiche dei propri film, andate a caso oppure un musicista, va bene. Lo sa tutto il mondo, anche quelli che non seguono il calcio, che tu vuoi Lukaku e al contempo devi cedere Vittorosimène. Vittorosimène che non puoi tenere squadra, non lo puoi più tenere in primis perché lui se non vuole andare e in secondis perché gli dai un milione di euro al mese. Per cui tu a giugno lo dovevi già cedere, cioè tu già avevate due mesi di stipendio, già hai refuso due milioni. E se Lukaku te lo devi prendere da C'è, perché tutti quanti sapevano dal momento in cui Conte è venuto a Napoli che il tuo obiettivo era Lukaku. Oh, la caca, poi il tempo ci dirà. Io intanto faccio la caca, ma Anna ha fatto Lukaku. Però questo è tutto... E quindi, se tutti sanno che tu devi cedere Vittorosimène, che ha sempre sognato la Premier League, te ne ha foto quando era più scivile con la maglia del Chelsea, guarda caso dove gioca Lukaku, nel Chelsea. C'erano tutti i principi dell'inculata. E tu quest'inculata te la sei goduta? Ognuno ha le sue preferenze, io non giudico, a me non piace. Però fondamentalmente abbiamo scoperto tanto delle preferenze sessuali di questa società, in primis di De La Ventis. E' un'inculata che dura dal giugno. E' un'inculata, in primis, Osimène, a quelle cifre qui a Napoli, e non aver ceduto sul prezzo. Nessuno, nessuno, e lo sanno tutti, ti avrebbe dato la cifra che tu avevi chiesto. Perché tu ti sei messo nelle condizioni di doverlo cedere. Cioè, queste credo siano le leggi di mercato che si insegnano alla prima settimana quando uno studia economia. Cioè, non lo so, veramente. Perciò, facciamoci due conti. Se anche uno stronzo come me, non quello che ormai già è, infatti comincia un po' a... Eh, ho anche il ventilatore, magari butta un po' la puzza di là. Però, insomma, se anche uno stronzo come me, che non capisce nulla di economia e di come si gestisce un'azienda, è arrivata questa soluzione, ma è già da giugno-luglio. Io mi chiedo come sia possibile che una società come il Napoli abbia tentennato fino ad ora a farselo penetrare fino ad ora e ancora non è ceduto Vittor Osimène. Senti le rise se poi Osimène non lo cedi e te lo tieni stipendiato in tribuna fino a gennaio. Questa società sta veramente dando prova a parte il fatto che non sono incompetenti per quanto riguarda le questioni di campo e di mercato. Oggi la conferenza di Conte non si è sentita. Si è staccata una volta. Cioè, il De Imprenditoris prende il zio Franco a mezza via e dice Sì, ma tu che fatti a giovane? Tenivo negozi di VD. Sì, vieni a fare la videoconferenza di Conte di Cassano Vindeur e il risultato qual è? Che la conferenza di un allenatore pagato un milione di euro al mese non si sente, non si vede. Le sue ultime parole non vengono riprese perché salta tutto. Una società veramente gestita alla Panep Parole che poi è anche un complimento perché Panep Parole non so a voi, a me piace. Finisco questa questo video estemporaneo stavo sul letto a fare i cazzi a prepararmi le... Ah, Domenico Domenico il mio amico Domenico Domenico uscirà il video reaction con Napoli Bologna in presenza del maestro personaggio uno dei personaggi più amati del mio canale mi stavo preparando delle cose mie ufficiale here we go Luca con Napoli e quindi io faccio la caca Manna ha finalmente fatto l'Ukaku ma io penso che questa società sia una società di merda e quindi per non sentire la puzza di merda che purtroppo dovremmo sentire per ancora un po' il gesto simbolico che ho già fatto in un video precedente aspettiamoci di tutto aspettiamoci di tutto perché ho letto di Ngongia la Roma e Zaleschia a Napoli e come ho postato su Community io chiudo il canale e sono sedissimo io non farò più video se Zaleschia mi danno perché è una presa per il culo perché vuol dire che neanche Conte può salvare questa società tutte le nostre speranze erano riposte in Conte se viene Zaleschia a Napoli e Ngongia alla Roma io non faccio più video sul caccio perlomeno e poi mi avrò il secondo canale un saluto e fate anche voi la caca che è importante o come si io so un saluto